Bentornati da CSA Centro Servizi Autocabili Quelli che vi facciamo vedere oggi sono due veicoli allestiti Due dei tanti veicoli che potete trovare sul sito www.volkswagenbologna.com Andiamo a scoprirlo! Il primo veicolo che andiamo a scoprire è il Caddy allestito Focaccia Group per trasporto di Zambi All'interno del veicolo si trovano anche due cinghie di sicurezza fatte per il traino della carrozzina per tenerla più stabile che si possono eventualmente fissare, fare in modo che non scorrano più nelle guide attraverso il pulsante posto nella parte sinistra del veicolo Vi faccio vedere come in due pratiche mosse si può ribaltare la pedana All'occorrenza si possono ribaltare anche se L'altro veicolo è il Crafter allestito all'Amberet con cello a frigo con frigo carrier È una delle varianti che si possono trovare sempre sul sito ed è una collaborazione che nasce fra l'allestitore e la casa costruttrice Andiamo a scoprirlo! Il Volkswagen Crafter allestito all'Amberet è un ruota singola e ha una cella frigo a meno 20 in ATP Presenta un gruppo frigo della carrier e ha delle misure interne di 3 metri e 10 circa di lunghezza per 1,85 e 1,87 di altezza Di serie c'è anche una pratica scaletta posteriore Vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia Speriamo che i video della CSA veicoli commerciali vi siano piaciuti e ancora vi invitiamo sul nostro sito www.csv.it oppure potete configurare i veicoli su www.forswaggebologna.com A presto!